Turismo, code lunghissime, zero distanziamento e mascherine usate poco e male, la Valli Passa viene presa d'assalto, la polizia locale, in campo operatori specifici per far rispettare le regole. Coronavirus, due nuovi positivi in Trentino tra cui un turista è rientrato dall'estero e tornano a salire i casi in Alto Adige, sette contagiati e le persone in isolamento sfiorano le 1700. Medicina a Trento da oggi è realtà, c'è il via libera del Ministero per l'attivazione del corso di studio, il Rettore Collini, successo grazie alla collaborazione dell'Università di Verona. Lotta alla droga per la provincia è un successo ma Fugatti è smentito dai dati ministeriali, Coppola, colpoverizzare i consumatori non serve. Si torna a scuola in Alto Adige, niente mascherine e distanziamento per i bambini, mix di presenza e remoto per le superiori. Su il Dolomiti le regole per il rientro. Quindi non puoi fare errori. Prova la novità. L'iscrizione costa solo un euro. 730 online di Caffacli. Incredibili vantaggi in un'unica soluzione. www.il730.online